ciao amici ovunque si sente e si legge che la pasta fa ingrassare e nelle diete viene eliminata i carboidrati sono indicati come i responsabili della ciccia che si accumula nel corpo a questo proposito ho fatto delle ricerche approfondite e indovinate un po ho scoperto che non è proprio così so per esperienza che ogni alimento può essere utile per dimagrire se usato bene mi riferisco anche a pane pizza e sorpresa anche la pasta se vi piace questo tipo di alimentazione mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video simona questa è una bufala no è una notizia seria ma c'è una condizione la pasta deve essere fatta con un grano di ottima qualità e deve essere integrale in che senso integrale deve contenere il germe cioè la parte grassa del chicco e deve contenere il cruschello e non la crusca per fare dimagrire è diverso ma non basta ci vuole anche la qualità migliore e la qualità giusta si trova in un grano italiano molto speciale si chiama senatore cappelli non è una marca ma un tipo di grano di chicco risale ai primi del novecento quando un genetista italiano strampelli crea degli incroci e forma un nuovo ibrido naturale lo chiama senatore cappelli in onore del senatore che ha riformato l'agricoltura italiana caratteristiche nutrizionali il grano senatore cappelli è un grano duro molto più ricco di fibre zinco e potassio a meno sodio calorie e grassi senza colesterolo non agm a meno del 10 per cento di glutine e quasi il 14 per cento in più di proteine e in più è saziante genera un basso indice glicemico ritarda la fame libera velocemente l'intestino e allontana il pericolo di intolleranze al glutine il corpo necessita ogni giorno del 40 per cento di carboidrati per avere energia e con questa pasta possiamo dimagrire e tornare al peso forma ma come dobbiamo fare per dimagrire con la pasta l'importante è mangiare questa pasta ma solo una volta al giorno meglio se a pranzo e condita con abbondanti verdure saporite mentre ad ogni pasto introdurre verdure crude con poche calorie e tante fibre se si mangiano proteine meglio che siano magre o vegetariane e durante il giorno almeno una volta un succo fresco di verdura e frutta se volete mangiare pasta in modo equilibrato e sano potete seguire tutte le ricette brucia grassi attiva metabolismo del mio ebook trovate il link in descrizione qui sotto è possibile dimagrire mangiando pasta mangia sano e vivi bene